ci dedichiamo alla cronaca ora nautilus alla cronaca nera perché poi la cronaca è sì come dire un comparto giornalistico dove purtroppo nella maggior parte dei casi vengono descritti e raccontati fatti drammatici omicidi violenze cose di questo tipo ma spesso ci raccontano magari quello che non va dal punto di vista legislativo o quelli che possono essere le cattive interpretazioni della legge come in questo caso non lo faccio subito come premessa non è nostra intenzione fare il processo a nessuno né ai giudici né legali né ai diretti interessati di questa vicenda che vivono un profondo dolore questa non è ovviamente un'aula di tribunale ci saranno dei giudici degli avvocati che si occuperanno di questo caso e stabiliranno ovviamente meglio di chiunque altro come sono andate le cose quello che ci preme capire e soprattutto dare sono delle risposte a delle domande che ovviamente l'opinione pubblica si fa anche quando capitano queste vicende che non sono vicende politiche economiche ma appunto fatti di cronaca andiamo subito a vedere di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un omicidio che purtroppo ha colpito un bambino l'omicida è davide paitoni possiamo farlo vedere nel frattempo lo chiedo alla regia questi sono gli articoli che durante la settimana hanno raccontato no questo dramma il dramma di questo bambino sgozzato letteralmente dal papà diciamo Gianluca che la storia è un po il ripetersi no di una fai da familiare che vede un conflitto in atto tra il papà e la mamma i figli che ci vanno di mezzo delle ordinanze dei giudici che consentono comunque al papà di vedere il figlio anche se ci sono dei carichi pendenti a livello legale proprio nei confronti del padre ma adesso ci addentriamo nella vicenda no eh sì però spieghiamo ancora per non rispiegarlo poi dopo con l'ospite che ci dovrà dare altro tipo di risposte nel nell'omicidio commesso a davide paitoni nei confronti di suo figlio e nel tentativo di omicidio nei confronti della moglie c'è una storia dietro questo bambino era stato affidato perché i due erano separati al papà nel giorno di capodanno cos'è che ha fatto sobbalzare ovviamente dalla sedia all'opinione pubblica ma anche insomma la politica gli addetti eh ai lavori tutti coloro che hanno ovviamente provato un ricurgito di commozione ed emozione rispetto alla morte di questo bimbo il fatto che quest'uomo fosse già stato assicurato agli arresti domiciliari in seguito ad una vicenda che riguardava un'accusa di tentato omicidio nei confronti di un collega una vicenda che poi se l'andiamo ad indagare è un po' complessa lui dice di essere stato aggredito e si è difeso con un coltello insomma un'altra storia che accompagna eh quest'altra eh vicenda qual è la domanda che si impone l'opinione pubblica come è possibile che un giudice abbia autorizzato la eh fidamento seppur per poco tempo per un giorno due giorni temporaneo non so nel dettaglio temporaneo del figlio ad una persona che si trova già in una situazione di questo tipo con la procura che aveva già parlato di una sua pericolosità sociale e allora queste per queste risposte ci affidiamo agli esperti come sempre e in questo caso io saluto l'avvocato Gianettore Gassani che è presidente dell'associazione matrimonialisti italiani ben trovato avvocato buonasera grazie grazie a voi. Allora eh la sua è una lunga esperienza so ci siamo anche a volte sentiti in privato e mi ha raccontato di come purtroppo ehm c'è un clima di tensione crescente riguarda le coppie eh che che si separano e lei insomma nonostante l'esperienza eh e la sua professionalità insomma a volte anche emotivamente è molto provato no da da questa da questa conflittualità che in un certo qual modo lei deve eh deve gestire eh però qui siamo a dei casi di di estrema gravità e di estrema eh violenza eh la domanda dell'opinione pubblica è quella che rivolgo a lei eh com'è possibile che un bambino possa essere affidato in una situazione di questo tipo al papà? Ma parto la premessa che non esiste assuefazione per qualsiasi avvocato degno di questo nome davanti a questi fatti. Il fatto di lavorare da trent'anni non può certamente farti fare il callo rispetto a questa tragedia che comunque ha scosso le coscienze di tutta l'Italia più degli altri casi ancora perché se è grave il femminicidio che è una cosa che ci lascia senza parole figuriamoci un infanticidio insomma voglio dire un bambino sgozzato dal padre come è successo purtroppo il fatto attore del greco della mamma che ha ucciso il figlio ritenendo che non dovesse vivere in quanto autistico insomma siamo ovviamente in una situazione di orrore totale quindi non è un discorso di padi o madi ma genitori pazzi. La questione che si pone l'ho già detto anche in altre agenzie e altre trasmissioni è un problema di vuoto normativo è un problema probabilmente anche di formazione degli addetti ai lavori è un problema di buonsenso io credo che fondamentalmente senza voler fare i processi come lei giustamente ha detto prima a nessuno lo faranno gli ispettori del ministero perché partiamo dal presupposto che nessun professionista infallibile neanche un magistrato perché insomma chiariamo le cose come stanno non esiste un'infallibilità del magistrato anzi i magistrati sbagliano spesso e lo dimostrano le corti di appello lo dimostra dalla Cassazione e gli errori dei magistrati sono all'ordine del giorno per fortuna che esistono è un sistema che non si fida talmente di se stesso che ha tre gradi di giudizio non si fidano di loro perché in altri paesi esiste un solo grado di giudizio in Italia ci sono tre già questo fa capire che il sistema non si fida probabilmente il buonsenso in questo caso non ha prevalso probabilmente poi ripeto le verifiche le faranno altri qua abbiamo a che fare con un uomo che aveva tentato di uccidere con una coltellata un collega un uomo che aveva ricevuto due denunce per maltrattamenti in famiglia da parte della moglie probabilmente non c'è stato un raccordo tra la procura e l'ufficio del GIP ma resta il fatto che poi un bambino è stato è stato autorizzato quest'uomo ad avere un bambino a casa sua per uno o due giorni ma quelli bastano due minuti per uccidere un bambino anche un minuto anche 30 secondi ma la violenza va monitorata la violenza non può essere sottovalutata un uomo che arriva a dare una coltellata alla schiena quindi che è denunciato e detenuto agli arresti domiciliari per tentato di uccidio lo vogliamo monitorare o no vogliamo capire questo chi è vogliamo contemplare che ci sia una perizia psichiatrica in questi casi cosa che non è prevista quindi un giudice penale è costretto a fare il giudice civile perché il GIP si occupa di altro non si occupa di affidamento quindi diventa un giudice matrimonialista e qui si crea il cortocircuito un giudice penale che non capisce niente di diritto di famiglia di livello di pericolosità di affidamento dei figli e quant'altro quindi è un sistema che non funziona ci sono delle responsabilità normative ci sono responsabilità giurisprudenziali c'è una responsabilità culturale nel nostro paese noi siamo garantisti soprattutto nei confronti degli indagati e degli imputati non delle vittime non delle persone offese non delle persone fragili se andiamo a leggere il codice di procedura civile procedura penale diritto penale eccetera eccetera tutto è a favore dell'indagato tutto è a favore dell'imputato quando viene rinviato a giudizio poco e niente si scrive sulla persona offesa sulla vittima a differenza di tutti gli altri paesi del mondo in cui la vittima è al centro del processo e all'angolo c'è l'imputato allora con questa cultura garantista dove il gp autorizza un uomo pericoloso che tra l'altro è agli arresti domiciliari per un tentato omicidio fa capire che purtroppo siamo in un paese che ha perso il filo del discorso allora io capisco tutte le garanzie il tema del filo del discorso è quello fondamentale perché qui il filo del discorso che lei ci fa vedere è questo no ci sono c'è un problema di competenze cioè c'è un giudice tra virgoletto costretto a decidere su una materia che non è proprio di sua stretta competenza anche se il buon senso avrebbe potuto fare molto il buon senso ecco il buon senso è un salvagente quindi i giudici sa cosa le rispondono i giudici dice sì io ci metto il buon senso ma poi devo motivare la mia scelta e le motivazioni a volte possono essere anche contestate a livello legale sono d'accordo infatti voglio precisare questo punto per evitare insomma polemiche tra avvocati e magistrati però voglio precisare il gip dovrà rispondere dovrà spiegare perché ha preso questa decisione perché non è immune dalla legge anche lui lo spiegherà sicuramente saprà motivare bene la procura dovrà confrontarsi con egip perché adesso c'è già un rimbalzo di responsabilità che sto leggendo sui giornali dovranno spiegare al popolo italiano che cosa è successo poi è chiaro che io non do la responsabilità questo a quel magistrato spazio da un sistema un codice lagunoso a molte volte una disorganizzazione degli uffici perché probabilmente se egip avesse saputo della pericolosità sociale di questo signore forse non gli avrebbe consentito a questa cosa che avrebbe potuto di dire anche di no e tra l'altro davanti ad un'informativa precisa della procura il no sarebbe stato sicco e anche ben motivato e anche in maniera molto veloce una cosa è certa però in tutta questa storia abbiamo un bambino sgozzato da un padre un padre che stava agli arezzi domiciliari un padre che è accusato di tentato omicidio e un padre che è stato anche denunciato per maltrattamento in famiglia io vorrei capire di che cosa stiamo parlando ecco avvocato io vorrei porre l'accento lo abbiamo detto però io ci tengo anche a sottolinearlo no perché lei ha parlato di buon senso l'ordinanza io ho sentito le parole della difesa di paitoni ovviamente sono parole di parte no loro dicono l'avvocato dice l'ordinanza era assolutamente ineccepibile perché l'accusa di tentato omicidio come avevamo detto no viene da una vicenda controversa mi sono difeso e ovviamente ma intanto però intanto però questo ha ucciso il figlio evidentemente no no ma infatti io lì voglio andare avvocato nel senso ma è possibile che bisogna aspettare che questo tizio venga accusato di tentato omicidio per impedirgli di vedere il figlio quando la mamma con il papà quindi con il nonno del bambino erano andati più volte a denunciare i maltrattamenti gli insulti le violenze fisiche e verbali c'è un ragionamento si poteva fare pure a priori non non per forza aspettando un giudizio allora fermo restando che i colleghi hanno fatto il loro lavoro e il loro dovere perché il collega ovviamente il cliente gli chiede voglio vedere il figlio non sta al collega a fare perizie sulla pericolità sociale ma hanno fatto il loro dovere il problema ripeto un problema normativo un problema di formazione tecnica di degli addetti ai lavori quindi anche dei magistrati un raccordo tra gli uffici strano perché poi spesso pm e gip sono una stessa cosa purtroppo nel nostro paese mai come questa volta forse un minimo di colloquio di dialogo ci doveva essere perché abbiamo già un problema a monte di questa divisione delle carriere che non si vuole fare non si è ancora capito perché stavolta che evidentemente bisognava stare insieme a parlare esseri uniti non è successo non voglio buttare la coce addosso a nessuno saranno gli altri a dover fare le verifiche però attenzione tantissime volte le donne vengono uccise perché o non vengono credute o vengono emessi di provvedimenti blandi nel 56 per cento dei casi le donne che sono state assassinate tanto per parlare della violenza in senso lato hanno già avevano già presentato denuncia avevano già spiegato questo mi ammazza e nessuno l'ascoltate una morte che vale doppio una morte che ha mille responsabili dal 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 poliziotto dal maresciallo dei carabinieri di quei pochissimi inesperti oggi tante cose buone fanno per fortuna però c'è anche quello che dice che sottovaluta è anche quello che quando deve verificare sul sul nel luogo del fatto non riesce a capire quello che è successo un pm che non interviene subito un gip che emette provvedimenti piuttosto blandi rispetto alla pericolosità sociale della persona se andiamo a guardarci tutti i fatti di sangue negli ultimi anni guardate che non è più vero che le donne le vittime siano overtuse le donne oggi denunciano e come ma per un avvocato dire in soprattutto in un piccolo centro di una donna vai a denunciare tuo marito senza la certezza che poi intervengono immediatamente le forze dell'ordine e il codice rosso venga applicato perché è stato il più grande fallimento normativo degli ultimi 50 anni il codice rosso questa è una mia idea perché altrimenti non saremo ai livelli di una guerra civile nel nostro paese perché noi stiamo vivendo in una guerra civile dove ogni due giorni una donna viene uccisa oddio vengono uccisi anche gli uomini però è chiaro che non però è chiaro che non si può fare un paragone due fenomeni abbastanza diversi ma la violenza poi è trasversale ci sono anche le mamme che uccidono anzi su un tema di infanticidi se andiamo a guardare quello che è successo dall'anno dal 1970 ad oggi le donne sono quelle che maggiormente uccidono i figli e lei libro di professore massonardi che invito tutti quanti a leggere madri che uccidono e spiega che poi l'infanticidio non è un po una prerogativa maschile anzi semmai il contrario è femminile sì la sindrome di medea l'abbiamo studiata all'università e si studia in criminologia quindi esiste una famiglia malata a tutti i livelli trasversale dove ci sono violenze di ogni tipo l'uomo contro le donne spesso le donne contro i figli come è successo poche ore fattore dal greco assolutamente c'è questo questo tema lei parla di una guerra civile e purtroppo i dati che emergono quotidianamente insomma ci raccontano questo la cosa che il tratto comune di queste vicende al di là che appunto poi c'è una trasversalità di genere ovviamente nelle violenze però rispetto al rapporto uomo donna moglie marito e il tema è questo c'è sempre più l'idea di una punizione della donna che lascia attraverso l'omicidio del figlio o l'omicidio la donna stessa ma adesso ultimamente c'è anche anche le donne uccidono i figli come è successo a quella albanese due anni fa ucciso tre figli la sgozzata di tutti e tre perché il marito se n'era andato succede a tutti i livelli succede a tutti i livelli genere diciamo che questa è la maschile più è più subdola perché la violenza maschile come diceva lei una violenza è una violenza di punizione non di reazione cioè l'uomo non accetta l'uomo molti uomini purtroppo non tutti per fortuna non accetta il fatto che la donna possa prendere una decisione trocare una relazione noi abbiamo abrogato la codice penale delitto d'onore ma non abbiamo abrogato dalla cultura di molti maschi italiani e il vero problema italiana italiano è la sottocultura del maschio che ancora oggi anche se non uccide comunque la fa pagare la donna quando la donna assumono una decisione magari non ti uccido ma ti faccio il reato di revenge porn metto le tue fotografie su internet oppure vado a dire agli amici al bar chi sei ho mostro le fotografie al tuo attuale fidanzato per dimostrare cosa facevi con me ma quante volte in grande sintesi avvocato è un qualche modo ti devo rovinare la vita quindi noi uomini dobbiamo scendere in piazza insieme alle donne più ancora delle donne perché la battaglia contro il femminicidio è una battaglia di popolo non è un soltanto una battaglia da derubricare al femminile è una battaglia per le nostre figlie per le nostre sorelle per le nostre mamme e l'uomo gli uomini devono scendere in piazza eh sì eh avvocato in conclusione si è fatta nel corso del tempo per la sua esperienza professionale si è fatta più esasperato il conflitto uomo donna in fase di separazione e divorzio eh possiamo dire questo nel corso degli anni prima c'era ci si presentavano a lei casi un po' più diciamo sempre ovviamente di conflitto di litigio ma con un intento tutto sommato più distensivo rispetto ad oggi sì oggi la situazione è molto più grave molto più drammatica molto più violenta rispetto a quando iniziato a fare l'avvocato ovviamente i conflitti sono sempre esistiti ma adesso sono arrivati a un limite insopportabile probabilmente anche perché i social network hanno in qualche modo accentuato anche le infedeltà coniugali tante situazioni che poi non vengono gestite al meglio e soprattutto la solitudine delle persone la lentezza del processo anche delle separazioni insomma parliamoci chiaro adesso c'è la riforma cartabile che dovrebbe cambiare sostanzialmente il modo di separarsi e divorziare il nostro paese avverrà fra un paio d'anni però oggi chi accetta una separazione giudiziale è come andare in guerra devi stare anni e anni a battagliare se non hai un avvocato con gli attributi sei finito perché oggi la giustizia non è neanche fatta più dai tribunali e dipende allo studio legale questa cosa è molto grave lo dico sinceramente lo dico sinceramente non voglio in qualche modo sminuire il valore dell'avvocato ma quando in una società molto viene fatto dagli avvocati esperti perché oggi c'è anche la categoria dell'avvocato tuttologo che fa di tutto di più quindi non fa niente praticamente questo è un fatto molto grave noi abbiamo bisogno invece di una prevedibilità dei provvedimenti di un livello della magistratura che sia medio alto in tutta Italia invece purtroppo questo non capita abbiamo dei livelli di eccellenza a Roma Milano Torino le grandi città ma in provincia purtroppo e non per colpa dei magistrati abbiamo magistrati mandati a fronte che sono costretti a fare sfratti recuperi crediti incidenti d'auto e poi anche una separazione ogni tanto e con questo livello di giurisdizione non si va da nessuna parte spesso la violenza dipende anche dal fatto che non ci sia giustizia o ci sia una denegata o ritardata giustizia quindi avvocato proprio in critura con una risposta flash rischia di vincere chi ha più possibilità economiche di difendersi meglio? beh diciamo che il 90% è come dire io ho una grande squadra gioco contro una squadra di provincia vinco può capitare anche nella grande squadra prendi la stecca però è chiaro quando è uno studio che fa solo quello è come calcio il Real Madrid deve giocare a Frosinone il Fosinone può anche vincere 1 a 0 può capitare ma se si gioca normalmente vinci 10 a 0 ma non c'è partita perché l'approccio specialistico rispetto di un avvocato rispetto a una materia come il diritto di famiglia è tutto il modo di scrivere di fare le osservazioni, di chiamare i testimoni, di interrogarli, di fare le indagini il proprio investigatore è proprio una struttura completamente diversa dall'avvocato che il giorno prima faceva il recupero bene bene grazie all'avvocato Gianettore Gassani grazie all'associazione matrimonialisti italiani LAMI che guida da tanti anni a presto avvocato buona serata buona serata e beh passiamo da questa pagina nera evidentemente drammatica della cronaca italiana alla nostra rubrica che ci consente di alzare gli occhi al cielo e di darci qualche risposta sì e qualche pure boccata d'ossigeno rispetto all'immersione che abbiamo fatto adesso sigla eccoci qui la bella sigla di occhi al cielo e il bel momento di Nautilus con ovviamente il nostro immancabile ospite eh sì l'astrofisico Paolo Colona direttamente dall'Accademia delle Stelle buonasera professore buonasera a tutti ben ritrovato allora l'abbiamo annunciato nelle scorse puntate no parlando ovviamente di astronomia abbiamo detto ma non abbiamo mai parlato di di archeoastronomia e oggi lo facciamo esatto esatto oggi ci diamo all'archeastronomia di che cosa si tratta? l'archeastronomia è tra l'altro quello di cui mi occupo professionalmente è una disciplina che studia il mondo antico quindi è una disciplina di caratteristiche completamente scientifiche ma che è rivolta esclusivamente proprio precisamente al mondo umanistico perciò affianca archeologia, storia delle religioni, filologia classica anche e dà possibilità di fare scoperte sul mondo antico, svelare misteri del mondo antico e noi lo faremo oggi anche passando in rassegno alcune foto no professore? sì sì ho messo alcune fotografie per dare un'idea innanzitutto vorrei sottolineare le motivazioni per cui esiste l'archeastronomia cioè che cosa fa l'archeastronomo? studia un reperto antico che può essere materiale o un'architettura, una tomba, una iconografia o testi letterari e cerca riferimenti astronomici perché il mondo antico, come dire, traboccava di riferimenti astronomici l'astronomia era così tanto importante nell'antichità per motivi abbastanza ovvi penso che tutti quanti riescano a capire perché all'epoca l'astronomia era estremamente importante non era un optional, diciamo perché se puoi sapere l'ora devi sapere leggere le stelle riconoscere le costellazioni idem per sapere il giorno dell'anno quindi che cosa devi fare uno strumento che aiutava a vivere la quotidianità non dava riferimenti ma se tu ragioni anche sul fatto che l'economia si basava quindi la sopravvivenza su o spostamenti, migrazioni, caccia e raccolta e agricoltura tutto questo deve essere fatto con un calendario bisogna sapere che punto dell'anno sei e questo te lo dice l'astronomia quindi tutti conoscevano l'astronomia tutti pratichavano l'astronomia e l'astronomia era estremamente importante questo ce lo confermano i reperti archeologici come Stonehenge per esempio, famosissimo ecco quindi una cultura antica in cui l'astronomia era così tanto importante produceva proprio dal punto di vista culturale reperti che noi oggi possiamo studiare che molto spesso hanno riferimenti astronomici che però il filologo o l'archeologo magari non sono in grado di riconoscere perché non sono astronomi non hanno questo tipo di competenza e di conseguenza serve uno che conosca anche l'astronomia per poter riconoscere in un mistero in un dettaglio del reperto che studiamo il contenuto astronomico ecco prima di andare alle foto intanto la nostra Rachella ce le mostra in maniera un po' randomica giusto però ecco adesso ci andiamo a commentarle che percorso di studi bisogna fare per diventare archeoastronomo? questa è una nota dolente perché non esiste in Italia la preparazione accademica per creare un archeoastronomo e quindi gli archeoastronomi che esistono oggi sono tutte persone che hanno studiato molto sono mosse dalla passione verso il mondo antico normalmente hanno una laurea appunto in fisica o in ambito scientifico una grande passione per il mondo antico più alta è la competenza astronomica e meglio questa persona avrà possibilità di fare scoperti e che si sono appunto studiate di caso in caso approfonditamente i vari reperti e hanno cercato di dare il loro contributo purtroppo bisogna dire anche che poiché non c'è una preparazione di tipo rigoroso accademico prestabilito per poter fare archeoastronomia molti si improvvisano anche e di conseguenza c'è il problema c'è il problema e non tutto non tutti hanno le competenze per distinguere anche perché insomma diciamo così la scintilla è la passione per poi non è detto che la passione porti ad un livello di competenza tale da poter essere astroarcheono archeastronomo bene andiamo con le foto perché il dato empirico è sicuramente sempre fondamentale queste sono fotografie della meravigliosa sala affrescata la volta affrescata della sala della cosmografia di Palazzo Farnese a Caprarola provincia di Viterbo in cui c'è questa immensa meravigliosa appunto sala con dipinti di carattere astronomico e geografico e questo è come vedevano gli antichi il cielo come vedete è un pollolare di figure è una ridda di riferimenti che a noi sembrano sembra una follia insomma vedendolo così non riusciamo nemmeno a capire quale potrebbe essere il significato e invece va detto che qui l'orsa si vede però con le stelle bravo, perfetto quella è l'orsa maggiore e accanto col braccio alzato c'è il bote che Omero dice tardo a tramontare e perché dice tardo a tramontare? questa è una cosa che i filologi per esempio non sanno è una delle mie scoperte tra l'altro è una delle cose che ho scoperto io e quindi vedi che l'archeoastronomo può fare anche scoperte di filologia classica cioè spiegare un verso di Omero che fino all'epoca per 1500 anni tutti i filologi non erano stati in grado di più interpretare questa scoperta in quest'ambito in questo settore le viene riconosciuta? cioè si sa che questo aspetto lo ha scoperto il professor Paolo Colonna? si sa perché se vai a cercare lo trovi diciamo che queste scoperte hanno bisogno di tempo per essere acquisite e diffondersi però poi insomma tra gli esperti di settore poi si sa che è lei che ha tirato fuori questa cosa si si la scoperta è comprovata si 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 bene perfetto andiamo con un altro fotogramma quindi dicevo le costellazioni che sono il modo in cui gli antichi vedevano il cielo e noi ci rendiamo conto che lo vedevano molto ricco di significati e quei significati sono stati dati al cielo non per passatempo ma per motivi precisi tipo astronomico e in alcuni casi almeno è possibile sapere qual è l'origine e la motivazione astronomica delle singole costellazioni la storia delle costellazioni è affascinantissima e porta sempre inevitabilmente a scoprire che gli antichi conoscevano la proprietà di quella particolare zona di cielo in cui avvenivano certi fenomeni quindi non è un passatempo ma la lettura delle costellazioni è qualcosa di enormemente gravido di informazioni lì abbiamo visto la Sfinze in un mio fotomontaggio con un bel cielo stellato alle spalle per ricordare anche che l'archeoastronomia effettivamente può fare scoperte di tipo materiale quindi dietro della Sfinze si vedono le piramidi si intravedono le piramidi e le piramidi per esempio contengono informazioni astronomiche anche lì l'archeologo scopre nella sala delle grandi piramide dei fori alle pareti con dei condotti che vanno verso l'alto non ha idea di cosa significano 1872 questa scoperta passa come condotti di aerazione come se fosse necessario far passare aria nella piramide e invece cento anni dopo un'astrofisica incomincia a vedere che inclinazione hanno questi condotti che direzione hanno sono sul meridiano terrestre indicano a nord e a sud il passaggio il transito di stelle importantissime del cielo egizio e quindi un astrofisico capisce il significato di un reperto che per l'archeologo è muto questo è un altro esempio di appunto importanza dell'archeoastronomia delle applicazioni dell'archeastronomia nella conoscenza del mondo antico come anche Stonehenge o Newgrange gli altri famosissimi cioè si parte da una base diciamo di scoperta archeologica esatto poi si scoprono nelle ricerche e nei ritrovamenti dei dettagli che non si riesce però a declinare in ambito terrestre esatto a dargli un senso che funzioni avevano in quell'epoca e non si riesce allora si guarda al cielo come facciamo noi alle volte questi misteri è possibile risolverli con l'astronomia con l'astronomia cioè c'è un riferimento all'astronomia anche in questi ritrovati l'astronomo se ne rende conto chi non conosce l'astronomia non riuscirà mai a ritrovare il riferimento che era nascosto in quel reperto quindi l'astronomo in alcuni casi risolve il misterio dell'antichità tra l'altro per quel che riguarda l'Egitto le piramidi e le spingi mi sembra e qui vado a cavare nella mia di memoria ci fosse un preciso riferimento alle stelle al cielo ma già nel posizionamento di dove costruire allora quella è una teoria che ha avuto un enorme successo è stata lanciata in maniera incredibile io su queste pop sono bravissimo dal punto di vista esatto pop è stata molto lanciata ma non ha nessun riscontro scientifico né storico perfetto anzi ma sdraiato si sarebbero addirittura no no ma in realtà sia meno brutale professore poi mi siete prime no in realtà effettivamente questa è una come dire ebitalmente tanto rilievo tanta proprio esposizione mediatica questa falsa scoperta questa ipotesi che poi molti la conoscono ma in realtà se uno va a vedere le tre piramidi sono posizionate così per altri motivi anche cioè se tu non spostavi l'ultima la più piccolina non la vedevi dal nilo e quindi o la sposti e poi chi è che vede le piramidi dall'alto le utilità un drone egizio e quindi e quindi poi vederle cioè messe così come sono da terra hanno un aspetto molto più armonico se le avessi allineate l'ultima e no avrebbe stonato però l'attenzione degli egizi per il cielo è testimoniato da quello che ci ha detto lei è assolutamente indiscutibile il tempo corre e noi vogliamo ancora andare a scoprire altri altri simboli della queste sono altre ricerche archeoastronomia sì in effetti l'alone del sole dietro al mito greco è il campo nel quale ho dato più contributi in effetti e cioè miti antichi che ci sembrano delle storie alle volte strane assurde piene di dettagli incongrui che non si riusciamo a spiegare in alcuni casi almeno è possibile dimostrare come in questo caso che quel mito in realtà è tutta una costruzione narrativa ma sta descrivendo un fenomeno naturale spesso legato al cielo o almeno io ovviamente riconosco i riferimenti astronomici in questo mito come in altri che ho potuto risolvere ecco il mito per esempio ha la stessa radice di mistero proprio come parola etimologicamente quindi anche in questo caso bisogna risolvere il mito e alcune chiavi di lettura appunto capita che sia proprio l'astronomia e quindi alcuni miti tu leggi questa storia che non significa nullo comunque è molto ardita nella sua sviluppo passaggio tanti riferimenti che anche allegorica esatto sembra fare riferimenti a qualche cosa ma finché di là ripeto non ci passa una persona che conosce la fisica insomma la scienza che potrebbe starci dietro quel mito quel mito resta un racconto certo un racconto bizzarro invece in alcuni casi come Isione per esempio il re Isione che fu legato dice il mito ad una ruota di fuoco dopo essersi accoppiato con una nuvola che resterà incinta e quindi i mitologi per 200 anni hanno cercato i filologi hanno cercato di capire cosa potesse significare questo mito finché non ci è passato di là un astronomo in questo caso io e ho individuato in maniera molto molto evidente ai miei occhi come dire è molto chiaro ma le prove poi ne ho portate parecchie quella ruota di fuoco è un fenomeno che effettivamente avviene nel cielo cioè l'alone di luce che avviene intorno al sole di fuoco perché? perché il fuoco è luminoso è l'unica sorgente artificiale di luce dell'antichità quindi un alone di luce intorno al sole era chiamato alone di fuoco e quello porta al peggioramento del tempo quindi la nuvola incinta eccetera e questo siamo certi che lo sapevano all'epoca che la relazione c'era fra questa apparizione nel cielo e questo fenomeno e il peggioramento del tempo grazie al fatto che appunto per fare questa ricerca sono andato a scartabellare un po' di tavolette cuneiformi precedenti al mito o comunque coeve le quali effettivamente dicono chiaramente che si vedrà il cerchio intorno al sole o alla luna arriverà la pioggia quindi lo sapevano e hanno costruito uno stranissimo mito per raccontare il fatto che si vede quello che accadeva in cielo certo assolutamente abbiamo altre foto quante foto abbiamo ancora da mostrare tavole sciateriche di Athanasius Kircher beh questo diciamo non è archioastronomia questa è la maniera in cui il grande sapere scientifico del rinascimento è il canto del cigno Athanasius Kircher era un gesuita ma anche uno scienziato non in senso moderno ma un erudito che studiava anche la scienza e l'astronomea e ha creato queste su tavole di lavagna sono nere perché sono proprio effettivamente ardesia incise e poi dipinte delle meravigliose riferimenti di tutta come dire un compendio delle conoscenze astronomiche dell'epoca lì finisce vede anche i segni zodiacali insomma riferimenti che oggi non troveresti mai su un libro di astronomia è il modo in cui si infrange quella astronomia anche intrisa di simbologia di ricordi di reminiscenze simboliche mitiche esatto del rinascimento si infrange dove? sulla nascita poi della scienza moderna con Galileo telescopio analisi fisica della scoperta della fisica insomma della fisica come scienza moderna e che spazzerà via tutto quanto questa congerie di rapporti fra per esempio come la salute umana e le stelle quindi presupposti astrologici magici quasi che ancora nel seicento sopravvivevano insieme anche appunto a onestissime e correttissime informazioni astronomiche e scientifiche e poi invece tutto questo lì si esaurisce era un po' un'immagine di contorno non è prettamente archeoastronomia semmai è storia della cultura del pensiero e storia dell'astronomia andiamo avanti perché il tempo stringe wow basso rilievo eccezionale questo ecco è un altro questo è un altro esempio di una clamorosa di clamorosa successo dell'archeoastronomia quello che vedete è la tipica raffigurazione del mitraismo una religione che aveva un enorme successo duemila anni fa quindi da poco prima dell'era volgare fino a un paio di secoli dopo Cristo era una religione misterica anche in questo caso intenzionalmente non si diceva di che cosa trattava questa religione noi avevamo soltanto riferimenti archeologici e pochi riferimenti letterari da parte di persone che non erano addentro non erano iniziati di questa religione misterica e quindi gli archeologi e gli storici delle religioni devono capire che cosa significa quella stele ci hanno provato in tutti i modi prendendo abbagli anche clamorosi proprio esemplari per far vedere a quali errori si espone chi parla senza poi sapere di cosa si parla e fino a che negli anni 80 dopo una lunga serie una marcia di avvicinamento faticosissima verso l'essenza che poi è astronomica se fate caso ecco negli anni 60 per esempio qualcuno si rese conto se rivediamo l'immagine che tutti quanti questi strani animali compreso vedi quel signore col berretto frigio che è il berretto dei puffi lui è Mitra che sta uccidendo il toro ma poi tutto intorno tanti altri animali c'è un scorpione un serpente un cane alle spalle di Mitra accanto al sole c'è un corvo la coda del toro diventa una spiga quindi questa che apparentemente è una scena insomma è un rebus è un rebus è un rebus è del riferimento astronomico sono tutte costellazioni e c'è un solo motivo per cui tutte e solo quelle costellazioni si debbano trovare raffigurate là bisogna ammettere rivediamola poi andiamo avanti se c'è qualcosa bisogna ammettere per spiegare appunto questa cosa che questa religione fosse tutta incentrata attorno alla precessione degli equinozi che è un fenomeno che sposta il punto in cui si trova il sole all'equinozi della primavera nelle varie costellazioni dello zodiaco Mitra che uccide il toro ricorda il fatto che vedi che il sole e Mitra si stanno guardando Mitra guarda indietro verso il sole il sole guarda Mitra Mitra sta uccidendo il toro e fa sì che l'equinozi di primavera non cada più nel toro ma nella costellazione seguente che poi sarà l'Ariete una religione completamente cosmologica basata su conoscenze astronomiche dell'epoca quali la precessione degli equinozi complimenti intanto professore questa è una parte molto affascinante lei la spiega come al solito molto molto bene tra l'altro il silenzio che accompagna magari la fine delle risposte del professore è solo il nostro stupore no assolutamente elaboriamo le informazioni ci stupiamo di queste e poi andiamo avanti vorrei finire se possibile ovviamente non se mancano 20 foto però no no se siamo eccoci va bene questa era un'immagine tratta da un libro divulgativo di astronomia dell'ottocento di Camille Flammarion di un monaco che arriva ai confini del mondo e si affaccia e guarda le sfere celesti è un'immagine molto utilizzata perché è estremamente potente ed evocativa però appunto è soltanto simbolica lui il monaco mette la testa fuori dall'altra parte e va a vedere cosa c'è in un certo modo infatti dietro che cosa vedi una congerie di ruote che girano che indicano gli astri meccanismi planetari altri sistemi la vastità dell'universo è un'immagine più allegorica che ovviamente che non prettamente scientifica ma molto evocativa che dà in senso l'idea di quello che stiamo dicendo della puntata odierna e dello studio andiamo avanti se c'era Stonehenge mi pare l'abbiamo vista però l'abbiamo vista sì 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 non l'abbiamo descritta Stonehenge non descritta eccola qua ebbè no perché questa per esempio è una dei più popolari esattamente perché è spesso evocata Stonehenge di nuovo questa è un'altra grande scoperta dell'archeastronomia perché Stonehenge in questo gruppo di pietre che tra l'altro adesso vediamo come dire accuratamente ricostruite dagli archeologi rimesse un pochino su è stato un pochino restaurato il sito era naturalmente dall'antichità era qualche cosa di spettacolare però non sappiamo esattamente l'archeologo non è in grado di dirti che cos'è non è una tomba non è una città non è una fortificazione non è un mercato per esclusione ti dice deve essere un luogo di culto ti va sempre lì ma se lì ci passa una persona come avvenne appunto nel settecento appassionata o che comunque conosce l'astronomia si accorge che l'asse di Stonehenge punta verso un punto dell'orizzonte da cui sorge il sole al sostizio d'estate e allora l'astronomia ti riesce a dare un'informazione di tipo più conclusivo più concreto almeno sappiamo a cosa si riferisce questa enorme incredibile costruzione antica al culto o comunque a un riferimento calendario al culto del sole o un riferimento calendariale poi bisogna anche stare attenti all'ultima cosa che dirò in questa puntata ne abbiamo parlato di persone che si improvvisano che cercano di fare un po' di archeastronomia pensate al gioco della bottiglia a un certo punto la bottiglia si ferma come fai a sapere che Stonehenge punta in quella direzione non per caso potremmo farla in qualunque non sappiamo se è intenzionale ecco molti archeastronomi purtroppo quando trovano un allineamento significativo lo danno sempre come se fosse intenzionale invece lei no ma no assolutamente no non è possibile bisogna portare delle prove che dimostrino bisogna dimostrarlo e in questo caso la dimostrazione per fortuna c'è non da Stonehenge perché appunto Stonehenge è un unico esempio quindi non potresti essere sicuro che non sia per caso però l'altra la foto aerea di un altro sito ci dà l'indizio ecco qui questa è Newgrange in Irlanda è una tomba megalitica con un lunghissimo corridoio ed è fatta in maniera tale che il sole entra dentro questo corridoio soltanto un giorno all'anno al sostizio d'inverno all'alba e ci sono ancora altri esempi nel megalitismo nord-europeo quindi siamo sicuri che lì un'intenzione c'è non lo è tecnologia avanzata per me non lo è 5.000 anni fa non c'era la scrittura questo dimostra realizzano una struttura all'interno della quale filtra il sole una volta all'anno esatto al sostizio e ci sono ancora gli architetti che ti sbagliano ai porti del bagno esattamente esatto e fa vedere questo quanto era importante l'astronomia all'epoca cioè se devono lasciare una cosa è qualche cosa che è allineata astronomicamente pensate che importanza aveva l'astronomia e quindi che potenzialità ha anche l'archeastronomia che bello chiudere con il professor Paolo Colonna mettiamo però la foto di chiusura perché tutto nasce all'interno dell'accademia delle stelle scuola di archeoastronomia c'è una quinta edizione e questa in realtà è una scuola è un'edizione passata sì certo dell'anno scorso è la locandina al museo nazionale etrusco di Vella Giulia tengo da cinque anni per l'appunto una scuola nazionale di archeoastronomia non è dell'accademia delle stelle è mia personale la faccio con l'Hawai una strada per gli italiani con ovviamente il riconoscimento del MIUR quindi è una scuola di aggiornamento anche per docenti è un modo in cui si può imparare a fare l'archeoastronomo con l'accademia delle stelle però tengo il corso di archeoastronomia un corso divulgativo ricchissimo vastissimo in cui si vedono tutti questi esempi con grande approfondimento come possono i nostri telespettatori ricevere informazioni sull'accademia delle stelle? sito e pagina facebook sito accademadelestelle.org e pagina facebook accademadelestelleastronomia benissimo scrivete scrivete al professor Paolo Colonna dite che l'avete visto restare affascinati come noi direi esatto ma soprattutto poi per apprendere delle cognizioni insomma suppletive ulteriori rispetto a quelle che apprendiamo in maniera divulgativa anche in questa puntata odierna di Nautilus grazie professore grazie a voi grazie grazie a tutti voi che ci avete seguito anche in questa puntata di Nautilus che tornerà ovviamente venerdì prossimo ma ci sono ancora tante cose belle da vedere su questo bel canale dell'università Nicolò Cusano ci immergiamo a venerdì ciao 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 Grazie a tutti